L'E3 si è concluso e anche quest'anno è arrivato il momento di tirare le somme, partendo dai dieci peggiori annunci di quest'anno. In decima posizione abbiamo Crackdown 3, che è semplicemente imbarazzante, è un gioco che punta troppo sul cercare di essere un clone di Saints Row, si sforza di essere umoristico, simpatico, dovrebbe farti ridere ma fallisce su ogni fronte. E' un gioco che trovo assurdo, continui ancora ad essere presentato all'E3 e trovo assurdo che continui ad essere in sviluppo, cioè Microsoft ha stoppato lo sviluppo di giochi nettamente superiori rispetto a questo, non capisco perché continui a cercare di puntare su sta roba. Al nono posto abbiamo Just Cause 4, che per quanto non mi piaccia minimamente non è alto in classifica perché sarebbe come infierire. E' un gioco che io personalmente non ho mai trovato divertente, la saga di Just Cause ha sempre avuto una formula di gameplay che è troppo noiosa e ripetitiva e non ha niente che stimoli veramente attrattiva. La cosa dei rampini, ormai è vecchia, era divertente in Just Cause 1 fare un paio di esperimenti, poi ti stufavi subito di usare quella roba. E' davvero tedioso, è un gioco davvero tedioso. All'ottavo posto abbiamo Spider-Man e so che questo fa rastorcere il naso a parecchi di voi, ma il fatto è che per quanto il gameplay di movimento è davvero ben realizzato, cioè anche le animazioni di quando lui utilizza la ragnatela per swingare da una parte all'altra della città, è fantastico. Il problema è che lo stile di combattimento continua a puzzarmi, non è stato mai mostrato un momento in cui il combattimento sembra dover essere ragionato e studiato, piuttosto sembra troppo un premi il tasto attacco senza neanche dover mirare agli avversari perché fa tutto Spider-Man, sa lui chi attaccare per primo, sa lui come gestire gli spazi, gli ambienti, neanche devi muovere le levette analogiche per direzionarlo. Mi sembra troppo darmi quest'impressione e in più non c'è neanche mai stata mostrata una reale boss fight, l'unica volta in cui sono stati mostrati dei cattivi forti è sempre partito il filmato. E parliamo di questa cosa, il trailer che ci è stato mostrato alle 3 quest'anno era orribile perché tutta la presentazione è stata un Arriva il cattivo, saluta Spider-Man, scompare, arriva il cattivo, saluta Spider-Man, scompare, poi alla fine Spider-Man raggiunge la cima del palazzo, sponano dal nulla tutti i cattivi assieme e lo picchiano. Cioè era palesemente fanservice per dirvi, ehi ragazzi guardate ci sono tutti loro, c'è lui, c'è lui, c'è anche lui, stiamo sfruttando appieno la licenza, non siete contenti? Dai bravi bravi dateci i soldi, però da quel che sembra la trama sembra banalotta, qualcuno con un piano malvagio ha fatto scappare tutti i cattivi e probabilmente Spider-Man dovrà ricatturare lì a uno a uno, fantastico, poi magari se si scoprirà all'uscita che la trama sarà molto meglio rispetto a questo mi rimangerò queste parole, ma per ora Spider-Man si trova in questa posizione. Al settimo posto abbiamo Command & Conquer Rivals, che non solo ha incopiato il titolo da Need for Speed Rivals, sempre le stesse parole usano Electronic Arts, non sanno utilizzarne altre. In più la sua presentazione è stata parecchio offensiva, perché prima ci hanno giocato sul palco per 10 minuti, e vedere dei tizi lì che fanno lì tap tap sul telefono per 10 minuti vi assicuro non è intrattenente. In più è offensivo che abbiano utilizzato un marchio storico per farci uno schifoso free to play per smartphone, che alla fine puoi anche mostrarci il combattimento, eh sì, mandi le truppe da una parte all'altra, ma tanto essendo free to play quello non è un reale scontro di truppe, quello è uno scontro di portafogli, è chi ci ha speso più soldi che vincerà. Davvero è più competitivo mettere via il telefono e iniziare a prendersi a schiaffi con le mazzette di banconote. A questo punto è più o meno la stessa cosa. Al sesto posto abbiamo Sekiro, perché maledizione è l'ennesimo Soulslike, e direi diamoci una calmata con sti Soulslike. Io capisco anche le altre software house un po' ci hanno provato, perché è uno stile che ha dell'attrattiva e quindi bisogna provarci un po', e ci sono stati anche esperimenti ben riusciti. Lo stesso Nioh sembra caruccio. Tra l'altro è anche stato annunciato un Nioh 2, cioè è passato davvero pochissimo tempo, non so quanto senso abbia questa cosa. Comunque, la cosa che non mi convince di questo Sekiro è il fatto che di gameplay non sembra niente di diverso da un Dark Souls. Magari sì, ha una trama per davvero per la prima volta, han cambiato il metodo di storytelling, han cambiato anche lo stile di movimento, adesso il nostro personaggio sa anche saltellare. Però di base è un Soulslike, e maledizione, un Soulslike giapponese, quando già c'è Nioh e quando comunque deve uscire Ghost of Tsushima, che è nettamente superiore rispetto a quello che ci hanno mostrato i From Software. In più, per metà presentazione, io pensavo fosse un Tenchu di From Software, invece a quanto pare, no, han deciso che non vogliono più fare roba che sia diversa dai Soulslike. Al quinto posto abbiamo Secret Neighbor, un po' per il gioco in sé, un po' per la sua presentazione. Partiamo dal presupposto che per due giorni mi è rimasta intetta la canzoncina The Best Game in the World della conferenza Tiny Beals. In più mi fai una presentazione di 8 minuti, in cui alla fine mi mostri solo 30 secondi di un gioco che alla fine ha conti fatti. È The Seat in stile Hello Neighbor. Al posto del mostro tu sei il vicino di casa. È banale. Sia perché l'idea di fondo è già vecchia, è già stata utilizzata, sia anche perché alla fine hanno anche riutilizzato tutti gli asset vecchi, quindi non ci sarà neanche voluta così tanta fatica per mettere assieme questo gioco. Al quarto posto abbiamo il gioco di Gears dei Funko Pop, perché non ce n'era davvero bisogno, cioè già questi cosi li trovo poco sopportabili. Perché ce ne sono troppi e diversi sono anche parecchio bruttarelli. Ma poi davvero, ma si sentiva il bisogno di un videogioco basato su sti cosi? Ma assolutamente no! Cioè fossi un fan di Gears of War sarei offeso da questa roba. Al terzo posto abbiamo non un gioco solo, ma una categoria. Tutti i Battle Royale che sono stati presentati. E quindi in questa posizione ci vanno Realm Royale, Maverick Proving Grounds, Fear of the Wolf. Perché c'è una saturazione incredibile sul mercato di questa roba. Cioè sta moda è scoppiata nell'ultimo anno. In quest'ultimo anno ci sono sul mercato circa, non voglio esagerare, ma almeno una ventina di Battle Royale diversi ci sono. Ne son quasi certo. Credi davvero che facendo un altro Battle Royale riuscirai a spiccare in mezzo a tutto questo marasma? Ovviamente no! E ovviamente quando ne esce uno nuovo, se non introduce niente di veramente interessante, difficilmente riuscirà a schiodare i giocatori dagli altri Battle Royale a cui stanno giocando. L'unico che salvo da questa posizione è magari magari Island of the Nine. Perché è l'unico che non sta sfruttando la situazione, la moda, per lanciare sul mercato una porcheria. Sono gli unici che hanno iniziato lo sviluppo del loro gioco prima che andassero di moda, quindi nel periodo in cui ancora sul mercato c'erano solo H1Z1 e The Cooling. Solo che ahimè hanno completamente mancato una data di rilascio che gli permettesse di avere successo. Al secondo posto abbiamo la presentazione di Star Wars Jedi Fallen Order. E quindi non il gioco in sé, perché del gioco non sappiamo assolutamente niente, ma proprio il modo in cui ci è stato presentato. È stato scandaloso. Io quasi non ci credevo. Il tizio sembrava praticamente ubriaco dal modo in cui rispondeva. Del gioco non ci è stato detto niente a parte, eh, si intitola così e sarà ambientato in questo periodo qua. E basta, ciao, ci vediamo l'anno prossimo. Cioè, a questo punto, fate come ha fatto Perder's Cross 6, mostrate un'immagine statica zoomata con il logo del gioco. Sarebbe stato molto, molto meno vergognoso. Oppure, se proprio non hai niente da mostrare, proprio neanche hai fatto in tempo a disegnare il logo per mostrarlo alla presentazione, allora taci, non farla questa sceneggiata, perché è ridicola. Vi so che tanto ci dobbiamo vedere l'anno prossimo per saperne qualcosa. Vediamoci direttamente l'anno prossimo. Niente da dire per quanto riguarda il gioco, perché magari si scoprirà che è un capolavoro, però per il momento non lo possiamo sapere. E in prima posizione, come era anche abbastanza prevedibile, c'è il trailer di Devil May Cry 5, perché per quanto io stia cercando di farmelo piacere in questi giorni, io proprio non ci riesco. Quel personaggio lì non è nero, è il donte di DMC che si è tinto ai capelli, la tizia lì eccentrica che gli fa da meccanica probabilmente è insopportabile, i demoni hanno un design orribile, la città non è per niente gotica, la musica di sottofondo di questo trailer era inascoltabile, era pieno di difetti. E io sono dieci anni che aspettavo un nuovo Devil May Cry e di certo non stavo aspettando questa roba. E beh, con questo direi che possiamo concludere la classifica con delle menzioni speciali. La prima menzione speciale è per Anthem, perché sembra troppo essere un gioco alla Destiny, in cui vai in giro, spari, spari e devi farti le missioni più e più volte per droppare gli oggetti interessanti. In più, le personalizzazioni, che è una delle cose più importanti in un gioco del genere, saranno a pagamento a parte come microtransazioni. E per quanto riguarda il lato narrativo, non ci è stato mostrato niente. Poi, altra menzione speciale, per quanto possa sembrare strano, Fallout 76. Perché ha più lati negativi rispetto a quelli positivi da quel che ho visto. Tra il fatto che è online, tra anche il fatto che gli altri giocatori, se vogliono, possono bombardarti con le armi atomiche. E in più c'è anche da considerare che è uno spin-off nato da una costola di Fallout 4. Quindi, probabilmente, il sistema di dialoghi con gli NPC sarà ancora quello schifoso con solo quattro scelte. Il sistema di costruzioni è una cosa che ho trovato insopportabile in Fallout 4 ed è tornato ancora più importante di prima. E quindi il timore che sia ancora una volta come in Fallout 4, in cui avevano detto, Sì, ma non sei obbligato a farti le costruzioni. E poi invece sì che eri obbligato, ed era fastidioso. E in più il fatto che tutta la questione dell'ambientazione si è soffermata più su quanti nemici diversi mettere, piuttosto che quanti luoghi farti esplorare, quanta narrativa inserire all'interno di essi, mi fa pendere il giudizio di Fallout 76 più verso il negativo che verso il positivo. Però c'è da dire che mi sarebbe piaciuto provarlo lo stesso, se non fosse che la beta sarà provabile esclusivamente da chi lo preordina. E io, sinceramente, l'intenzione di preordinarlo a scatola chiusa non ce l'ho. Infine, l'ultima menzione speciale, e qua so che molti di voi vorranno venirmi a lapidare in casa, per The Last of Us, perché quello che a me è parso di vedere dal trailer è stato un concentrarsi molto sulla spettacolarità, sul rendere tutto cinematografico, ma a livello di interazione reale mi sembra esserci poco. Certo, i nemici ti prendono, ti scaraventano nell'ambiente, e puoi schivare, strisciare, abbassarti, nasconderti nell'erba, ma ogni azione porta ad una serie di sequenze scriptate in cui il giocatore non è chiamato a fare quasi nulla. Al massimo, il gioco ti fa premere un tasto ogni tanto giusto per farti sentire partecipe, ma praticamente l'azione sembra portarsi avanti da sola. Mi ricorda molto la situazione di alcuni quick time event di God of War 2. C'erano sequenze in cui se tu restavi fermo e non premevi l'input indicato su schermo, dopo una trentina di secondi l'azione continuava lo stesso, come se tu l'avessi premuto. Non è a binari dove il premere o il non premere, il fare giusto o sbagliato crea due scenari diversi, il risultato era sempre uguale. E questa è la grande pecca di cui mi sembra soffrire. Oltre al fatto che del primo non mi è piaciuta la trama, ma su quella del secondo non posso sbilanciarmi troppo, perché han solo mostrato una lunga sequenza di dialogo che, per quanto lunga, non ci ha spiegato niente della storia in realtà. Niente da dire per quanto riguarda la grafica e le animazioni, dato che con il motion capture han fatto un lavoro pazzesco. E nonostante tutti questi dubbi che vi ho espresso, sta in una posizione bonus perché mi sento buono e una micro speranza io la voglio dare. Magari, se la trama sarà coinvolgente, riusciranno a giustificare tutto. E con questo terminiamo la flop 10 delle 3 2018.